Un bel colpo, quello messo a segno dal Teramo martedì in trasferta sul campo della Fermana. Un successo maturato al termine di una prestazione solida e concreta che ora consente alla squadra di guidi di navigare in acque più tranquille. A fine gara Davide Mordini, che era uno degli ex, ha sottolineato l'importanza di questa vittoria. Sapevamo che era un campo difficile, soprattutto io lo sapevo benissimo, che qua non perdevano da mesi. E quindi sapevamo anche che era una gara dura, dove ci sono tante botte, la palla spesso è per aria. Quindi sono molto contento perché la squadra ha risposto molto bene. Sabato di nuovo in campo nel derby al Bonolis e contro il Pescara, che è quarto a due punti dal Cesena, terzo in classifica. C'è già grande attesa e si preannuncia che ci sarà una bella cornice di pubblico. È già iniziata la prevendita dei biglietti per assistere all'incontro alle 17.30 di sabato. I biglietti potranno essere acquistati sia in modalità online che al Caffè dell'Olmo e al Point del centro commerciale. C'è una novità per i sostenitori biancorossi. Acquistando un tagliando d'ingresso per assistere al match con il Pescara, si avrà diritto a riceverne uno in omaggio nello stesso settore per una delle restanti gare casalinghe tra Cararese e Pontedere e Reggiana. Intanto il Consiglio di Lega ieri ha votato all'unanimità le modifiche all'articolo 20 bis delle 9 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, rispondendo all'esigenza di migliorare taluni passaggi dell'assetto regolamentare sulle acquisizioni e partecipazioni societarie in ambito professionistico, in particolare sulla gradualità nell'applicazione delle sanzioni. Il Teramo, oggi davanti al Tribunale federale, ne potrebbe beneficiare di questa modifica, con l'applicazione solo di un'ammenda, difficile una penalizzazione.